Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A1 stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'entrata di Firenze Nord in direzione Roma. In orario 21.6 chiusa l'area di servizio di Bisenzi Ovest. Spostandoci sulla FIPILI si segnala un incidente in uscita a Cascina. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Per la viabilità cittadina Firenze oggi e domani sono in programma lavori di pavimentazione in piazza dell'Unità Italiana con chiusura del tratto da Via Panzani a piazza della Stazione. Nuoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!